buongiorno e bentornati sul mio canale in questo nuovo video vedremo altre domande di cultura generale per la preparazione al concorso per 1858 posti inps il de camerone racconta raccolta comprendendo 100 novelle è stato composto da la risposta da dare giovanni boccaccio il desiderio di mangiare cose strane che non sono nutritive è noto come cosa la risposta da dare picca il dipinto di picasso guernica prende spunto da la risposta da dare un tragico evento bellico il divisionismo la risposta da dare è un movimento pittorico sviluppato in italia tra il 1885 e il 1915 che tenendo alla massima luminosità si propone di ottenerla rinunciando a mescolare i colori sulla tavolozza per accostarli puri sulla terra piccole pennellate il famoso cenacolo di leonardo viene conservato a la parola la risposta da dare milano il favonio è la risposta da dare un vento il fiume che introduce acqua in un lago viene detto la risposta da dare immissario il fiume danubio sfocia nel la risposta da dare mar nero il fiume ebro scorre la sposa da dare in spagna il fiume piave attraversa le seguenti regioni italiane la risposta da dare è fluo di venezia giulia e veneto il fiume po sfocia nel mar la risposta da dare adriatico il fiume principale della germania è la risposta da dare il reno il fiume tevere nasce dal monte la risposta da dare fumaiolo il fluido caldo sotto alla crosta terrestre da cui si informa la lava è la risposta da dare il magma il fondatore delle olimpiadi moderne fu la risposta da dare pierre de comperitain il fluo di venezia giulia confina con la risposta da dare il veneto il front nazional è la risposta da dare un partito nazionalista francese il fuco e il maschio di quale animale la risposta è ape il garante europeo della protezione dei dati la risposta da dare e esamina il rispetto della protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'ue il gargano si trova la risposta è in puglia il giornale il resto del carlino fu fondato a bologna nel risposta ai 1885 il giornale il resto del carlino fu fondato nel 1835 a la risposta è bologna il giudice paolo borsellino è stato assassinato a risposta da dare palermo il golfo di napoli è formato a sud della calcarea penisola sorrentina ea nord da promontò il mio vulcanico di possuoli a ovest è chiuso dalle isole di ischia e di capri la prima di origine vulcanica la seconda calcarea e questa è la risposta da dare il governo di john philett kennedy fu caratterizzato la risposta è da un indirizzo informistico che si rilasciava al si rilasciava la tradizione progressista di wilson e roosevelt il governo per rimanere in carica deve avere la fiducia delle camere il gran sasso di quale sezione degli appennini fa parte la risposta è da dare abruzzese il grattacielo empire state building si trova nella città di risposta in new york il gruppo politico maggiormente rappresentato nel parlamento europeo per l'ottava legislatura 2014-19 è epp partito popolare europeo il lago balaton si trova in unghieria è la nostra risposta il lago di garda è situato la risposta da dare tra lombardia veneto e trentino alto adige il lago trasimeno si trova la risposta da dare umbria il lazio confina con la risposta da dare toscana umbria abruzzo marche molise e la campania milione d'oro viene assegnato al festival cinematografico di risposta è venezia il likud è un partito israeliano nazionalista è la nostra risposta da dare il luogo dove venne firmato la mistrizio tra francia e germania nel 1940 durante la seconda guerra mondiale perché fu singolare ed ebbe un grande significato la risposta da dare perché fu firmato nello stesso vagone ferroviario nello stesso luogo dove venne firmata la resa della germania alla fine della prima guerra mondiale il macaco è la risposta da dare una scimmia il maestrale la risposta da dare un vento il manzoni e rappresentante più significativo del momento romantico italiano tra le sue opere ricordiamo i promessi sposi quale tra i seguenti personaggi racchiude in sé tutte le doti del popolo quali la bontà generosa la giustizia istintiva la religiosità schietta eccetera la risposta da dare il rezzo il mar rosso e il mediterraneo sono collegati da un canale come si chiama questo canale la risposta da dare il canale di suez il mar rosso separa l'africa la risposta da dare dalla penisola araba il marchio doc su una bottiglia di vino sta indicare la risposta da dare denominazione di origine controllata il marzapane si prepara con la risposta da dare la pasta di mandorle il meccanismo fraudolento che si basa su operazioni triangolari tra paesi membri della comunità europea attraverso l'introduzione di una o più società che fanno da filtro con lo scopo di aggirare la normativa sul regime iva degli acquisti comunitari realizzando operazioni fittizie con il solo scopo di arrivare a poter detrarre i crediti iva del tutto inesistente la cosiddetta risposta da dare frode carosello il metacarpo appartiene la risposta da dare alla mano il midollo osseo la risposta da dare un tessuto molle il migrante regolare presente sul territorio o anche colui che in fuga da guerre e persecuzioni arriva in italia senza documenti o con documenti falsi e denominato la risposta da dare clandestino il ministero dell'interno a sede la risposta da dare albiminale il nuolise confina con la risposta da dare l'abruzzo il lazio la campagna e la puglia il mondo è bianco fa parte di quale sezione delle alpi graie e la nostra risposta il mondo è cervino fa parte di quale sezione delle alpi le alpi pennine è la nostra risposta corretta il monte mileto si trova nella varie opzioni di risposta quella corretta è nell'appennino sannita il mondo è più alto della sicilia è la risposta da dare l'etna il video di oggi termina qua per vedere altri miei video iscrivetevi al canale e attivate la campanella grazie a tutti